Ciao amici e colleghi, rieccomi qui in una grande avventura che presenteremo il 9 maggio a Catania, a Borgo e Europa. Maestri barbieri italiani e ItalianCrest si sono niti per darvi di più. Vi aspettiamo al primo Open Day firmato ItalianCrest in collaborazione con Maestri barbieri italiani. Ci saremo io e tutta la mia squadra a rappresentare questo fantastico evento. Insieme a tutto lo staff di Maestri barbieri italiani si discuterà del barbiere del XXI secolo, le giuste strategie di marketing, la leadership, lo shopping look e tutto ciò che ci circonda per essere una vera sala di successo. Inoltre spiegheremo a dettaglio le nuove tipologie di taglio maschile, le giuste sfumature e soprattutto la geometria applicata, il nostro metodo insieme a tutti i Maestri barbieri italiani. In questa fantastica giornata sponsorizzata in ItalianCrest, porterete all'interno delle vostre sale la tecnica di chaveology. Questo regalo offerto da ItalianCrest vi permetterà di portare all'interno delle vostre sale la tecnica di rasatura più usata nel barbershop di Sicers e nei centri di bellezza a livello mondiale. Chiuderemo la giornata con la presentazione dei nuovi prodotti ItalianCrest, il giusto utilizzo e i tantirissimi gadget offerti dall'azienda. Vi aspettiamo il 9 maggio a Borgo Rova, Catania.